Smacchi, questo emendamento contenuti è futuro? Ma sì, questo emendamento è stato presentato per tenere unita una comunità, nel senso che la legge contro l'omofobia, che noi riteniamo necessaria per dare ancora maggiore civiltà a questa regione, è una legge che non deve essere né di parte né deve essere una legge per piantare delle bandierine. Quindi da un lato siamo fortemente convinti che bisogna rigettare e condannare qualsiasi forma di discriminazione, qualsiasi forma di odio, in particolare in questo caso nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Allo stesso tempo però è necessario garantire la libertà di opinione, di pensiero, a tutti coloro che hanno una propria idea rispetto anche ad argomenti come questi, sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista delle associazioni. Quindi è un punto di equilibrio, un punto di sintesi, l'emendamento ha proprio questo obiettivo, quello di unire e tenere unita su questa legge un'intera comunità. Invece ha diviso un po' anche il partito? Ma guardi, sono rimasto un po' amareggiato, ma allo stesso tempo sorpreso, perché questo emendamento è ispirato ad un emendamento che è stato proposto dall'onorevole Verini alla Camera, che è stato votato dal gruppo del PD alla Camera, legge che alla Camera è stata votata dalla maggioranza, compreso questo emendamento. Quindi queste alzate di scudi da parte di alcuni membri, consiglieri o rappresentanti del Partito Democratico le trovo del tutto fuori luogo. Rispetto le opinioni di tutti, ma questi sono valori che appartengono al PD, ossia sia la condanna rispetto alle discriminazioni, ma anche la libertà di poter esprimere il proprio pensiero, ci mancherebbe altro.